Il senso che comunque ho ripreso tutto un discorso che avevo interrotto e mai approfondito diversi anni fa, legato anche a contaminazioni con l'implemento di strumenti elettronici come possono essere sintetizzatori, software eccetera e questo mi ha in qualche modo dato un sacco di linfa vitale per nuove idee, nuovi progetti, nuovi gruppi anche. In più continuo sempre in quella che è la strada principale con il mio strumento che è ovviamente il pianoforte che ho intenzione di abbandonare, anzi di conseguire e di sviluppare sempre di più. Perciò adesso proprio in questi giorni una delle primissime cose delle quali sono molto contento è questo tour che farò in Russia, dove devo stare due settimane per fare un po' di concerti in trio, purtroppo non con il mio gruppo, il mio trio insomma con Davide Liberti e Ruben Bellavia, ma con un gruppo russo, una ritmica russa che mi accompagnerà su. Successivamente quando rientro, allora ho appena registrato un EP insieme a due musicisti, se sembra qua di Torino, che sono Gianni De Nitto, Sassofono Elettronica e Mattia Barbieri, Batterie e Batteria Elettronica, dove io li suono solo ed esclusivamente i sintetizzatori, più pedalini, filtri e cose varie. Il gruppo si chiama TUN, Torino Unlimited Noise, è una cosa da quale insomma è un anno che ci stiamo lavorando. Insomma abbiamo registrato questo EP, stiamo aspettando le ultime risposte da una produzione eccetera per poter poi partire e fare la promozione di tutto il lavoro, che vedrà comunque la luce inizio 2019, abbiamo un po' di concerti, ci sono un po' di cose da fare. Poi ci sono altri progetti un po' più particolari, proprio legati alla musica elettronica e anche a tutto quello che è il dance floor, perciò insomma ballare, insomma divertirsi, casse in quattro eccetera. E questo è un progetto che insomma se ne parla già da un po' di anni, è da poco che lo stiamo realizzando, è un gruppo che ha nome di Pier Funk, che per chi non lo conosce è stato il primo bassista dei Subsonica, poi è diventato famoso perché ha lavorato con Motel Connection, sempre Samuel Romagna dei Subsonica, Pisti eccetera. E con lui Mattia Barbieri e Stefano Pedone, un producer milanese dell'area di Pavia, stiamo realizzando questo lavoro che si chiama Beelight, dove per il momento stiamo facendo, faremo una serata fissa mensile qua a Torino e poi si cerca di sviluppare sempre di più, l'idea di registrare anche un disco, ci sono già diverse opportunità per il prossimo anno. Per quanto riguarda la parte più tradizionale, sto lavorando negli ultimi anni, ho suonato un po' di più con questo fantastico sassofonista italo-argentino, che si chiama Javier Girotto, che non ha bisogno di presentazioni perché è molto famoso, e c'è l'idea di registrare un lavoro in duo o forse in trio con un percussionista e se avviene, stiamo definendo un attimo le ultime cose a livello urocratico perché lui è impegnato in un'altra etichetta discografica che comunque lo vincola. Se tutto va bene, entro dicembre e gennaio dovremo registrare il lavoro e che poi veda la luce nel prossimo anno. Il prossimo passaggio non lo so, guarda, questa cosa di sintetizzatore ad esempio non l'avevo più, è una cosa che mi è sempre piaciuta però non l'ho mai approfondita perché nel momento in cui mi sono dedicato al pianoforte ho detto no, mi dedico a questo, eccetera, no? E poi ti rendi conto che mancano dei pezzi, perciò è stata più, non solo un'esigenza o una cosa che dici, cioè che è venuta abbastanza naturalmente. Altre cose per il momento non lo so, sicuramente mi piacerebbe imparare meglio altri strumenti come la batteria che un pochettino da suono però mi piacerebbe implementare molto di più la mia conoscenza e basta per adesso. C'è una cosa che mi interessa molto che è la composizione, sto scrivendo parecchio anche per organici più ampi ultimamente, che è solo che richiede sempre tanto tempo, perciò uno vorrebbe sempre riuscire a fare tutto pur essendo consapevole del fatto che non è possibile fare tutto, perciò ogni tanto devi operare spesso, anzi bisogna operare delle scelte che vanno più in una direzione che nell'altra. Una parola che vuol dire tantissime cose, per me ha sempre lo stesso significato che aveva anni fa, cioè libertà, nel senso la possibilità di poter esprimere quello che è il tuo gusto personale, il tuo stile, quelle che sono le tue influenze, la tua idea di comunicazione attraverso un linguaggio che è bene o male codificato, che però ti permette di manipolarlo e di svilupparlo, di espanderlo ulteriormente con tutte quelle che sono le idee, influenze e cose che senti nella tua quotidianità. Ed è questo che ti consente di andare avanti svilupparsi così radicalmente poco per volta sempre in tutte le parti del mondo e insomma di crescere sempre di più, no? Cioè siamo partiti agli inizi del Novecento con un jazz che era una musica di intrattenimento o comunque una cosa che con mille influenze e origini diverse è diventato qualcosa che è molto ricercato, estremamente ricercato e raffinato, no? In tutte le sue espressioni diverse, cioè da quelle più tradizionali a quelle più avangarda, quelle più concettuali, quelle più diciamo alla portata di tutti, insomma, direi che una sfaccettatura, offre un sacco di sfaccettature diverse di quella che è la popolazione umana o comunque le varie differenze che ci sono tra le popolazioni, i ragazzi e tutto quello che vogliamo, no? E allo stesso tempo però le accomuna in qualche modo, perciò è, non so, è un'idea molto profonda ma allo stesso tempo anche molto tangibile, terra-terra. Per me è un po' questa cosa, questo senso di libertà di espressione. Ce ne sono tanti, ce ne sono tanti, sicuramente, beh, una delle cose più belle è stata arrivare, abbiamo, siamo stati in due città, Tokyo e Nagoya, la prima città nella quale siamo arrivati è stata Nagoya proprio, e la cosa più bella è stata arrivare in città, questa persona ce l'aveva portato lì e vedere che nessuno parla inglese, neanche alla reception dell'hotel. Cioè tu non hai idea di come comunicare, perché le scritte sono tutte in giapponese, le persone parlano solo giapponese, a Tokyo, qualcuno che parla inglese lo trova, e perciò è un casino. Allora mi ricordo che la prima sera che eravamo in giro, eravamo da soli, siamo andati a farci in giro, cercavamo un ristorante dove poter mangiare, però già capire un ristorante, quale fosse il ristorante rispetto a un altro negozio, ok va bene. E poi per ordinare i piatti era tutto basato su guardare le figure, i disegni che c'erano sul menu, indicare quelle e sperare che fosse una cosa che corrispondesse a quella che era la figura, no? Altrimenti non saperebbe come fare. E quello è stato bello. E c'è stata sempre la prima sera che il proprietario di questo locale, che non so perché, siamo finiti a parlare di sake, parlare, ovviamente ognuno diceva le proprie cose senza capirsi assolutamente, e lui ci ha spiegato tutto il procedimento di come fanno il sake, disegnandocelo su un foglio, perché lui erano sommelier, insomma, tra una cosa e l'altra ci ha spiegato il procedimento del sake, della produzione del sake, disegnandoci tutto quanto, però è stata una cosa carina. Ce ne sono veramente tanti. Diciamo a qualcuno allora, i primi. Sicuramente Enrico Zanisi, pianista romano, giovane, fantastico. Poter essere in tutte le parti del mondo, immediatamente, continuamente, contemporaneamente, poter avere un attimo flash, un'immagine flash di tutte quelle che sono le parti del mondo.